E carissimi amici e amiche, bentrovati, benvenuti sul canale. Vedete, ormai quando parliamo di femminicidi, parliamo di violenze, sembra quasi fiato spregato, ecco, fiato perduto e c'è tanta amarezza di dover ogni giorno magari andare a cercare la notizia con la quale una donna ha avuto terribili violenze o è stata uccisa. E sembra che il copione sia sempre lo stesso. Com'è possibile una cosa del genere? Com'è possibile? Io rimango bastito, attonito, meravigliato, consternato, dispiaciuto, ma veramente tanto, che più si parla e più il copione rimane uguale. A cosa mi riferisco? Mi riferisco che capita ancora, capita ancora dove? A Pantelleria, questa graziosa isola in cui l'altro giorno una giovane donna di 48 anni, Anna Elisa Fontana, non ce l'ha affatto, il marito le ha dato fuoco, le ha dato fuoco, cioè il compagno per meglio dire, le ha dato fuoco con della benzina. E lei è morta all'ospedale a Palermo, con il 70% di ossione sul corpo. Questo altro femminicidio è stato molto brutale. Questo compagno folle, Onofrio Bronzolino si chiama, meno male che ogni tanto escono fuori i nomi, perché c'è tanto comestà a volte, non si dicono nemmeno i nomi, pensate. Nomi e cognomi, Onofrio Bronzolino, 52 anni, che nella notte, quindi fra venerdì scorso e sabato, ha cosparso di benzina il corpo della compagna, perché ha fatto una scenata di gelosia, erano queste scenate che c'erano spesso. E quella sera ha fatto un'altra scenata. Figuratevi che talmente poi la violenza, ma pure l'azione violenta di quest'uomo, che addirittura nel buttare la benzina, talmente nell'accanimento, è ricoverato anche lui per ustioni. Rischia anche di perdere un occhio, perché il ritorno di fiamma lo ha attinto. Mentre lei poi cercava disperatamente di andare sotto la doccia per spegnere le fiamme. Era, come al solito, una relazione non normale, cioè in cui c'erano tutti i segnali della violenza. C'erano tutti, ma nessuno li vedeva. e la stessa vittima la stessa vittima li sottovalutava. Erano entrambi divorziati queste due persone, però avevano una relazione da due anni, due anni d'inferno. E quella serata, quel venerdì sera scorso, già avevano fatto una violenta discussione in un vicino buzz, nessuno dice niente, nessuno interviene, nessuno segnale, nessuno sorveglia. In pieno stile omoestoso, vedete? Poi si continua nell'abitazione, lei in fiamme che grida si getta sotto la doccia. c'è questa rabbia distruttiva, questa disumanizzazione proprio dell'individuo che vede il fuoco come protagonista. E il muovente qual era? Qual è questo enorme muovente? La cosiddetta gelosia criminale. Si legge, ad esempio, su Palermo Today, si legge che il muovente era che la donna aveva salutato, aveva rivolto un saluto ad un conoscente, marito di un'amica. E da qui erano iniziate le invettive, erano iniziate anche le violenze fisiche continuate nelle mura di casa. E addirittura questo onofrio bronzolino che esce va a prendere la benzina, torna e la cospace di benzina. Ma io dico questa povera donna perché stava là? Perché non è scappata? Perché anche quando Stubio è uscito e poi è tornato? Perché aspettava ancora lì il suo carnificio? Perché ha tollerato? Perché ha tollerato? Perché ha appassientato? Perché nelle tante altre episodi di violenza, di intimidazione, di alterco, perché è stata lì ad attendere la sua fine? Perché stava ancora con quest'uomo dopo tanti precedenti. Ma soprattutto non lo aveva mai denunciato. La gente ha guardato, sapeva attaciuto. Lei subiva su se stessa, si è guardata, si è vista, attaciuto. In questo caso qua noi non ce la possiamo prendere, vedete, nemmeno con le istituzioni, no? Le istituzioni hanno fatto il loro compito, perché sono intervenute quando sono state chiamate. In questo caso non c'era nulla, nemmeno, nemmeno una forma di denuncia. la donna lavorava in questa struttura d'alberghiera, a Pantelleria e lascia ben cinque figli, cinque figli che aveva avuto con il matrimonio precedente. eppure sempre leggendo sulla cronaca locale tutti sapevano, questi litigi erano ripetuti. Ecco, ancora una volta a stare qui, a fare questo elenco e a pensare come, dico sempre io, a volte le donne sono complici dei loro carnefici. Capita spesso, vedete. e anche quando a volte denunciano poi magari vanno a ritirare la denuncia perché impaurite, perché magari convinte, convinte della buona fede, convinte che poi lui cambia, questo e quell'altro. In questo caso nemmeno ciò. E si assiste sempre a questo che è diventato un problema culturale, quindi il problema culturale non soltanto a livello maschile del rispetto della donna, del rispetto del diritto altrui, ma anche il problema culturale che la donna deve rispettare se stessa. Non deve sopportare, l'abbiamo detto mille volte, questa sopportazione, questo pensare che uno cambi, no, quando qualcosa si è srotto, si è srotto e bisogna fare presto, bisogna prendere dei provvedimenti, la donna stessa, subito, ai primi episodi, perché altrimenti gira e volta finisce sempre in questo modo e o se non finisce così comunque finisce con anni di sottomissioni e di violenze che fosse ancora peggio. E poi leggiamo che il sindaco per domani organizza una marcia silenziosa per pantelleria, per carità, sono altri anche dovuti, però non servono a niente perché non smuovono le coscienze. Invece di fare questa questa sfilata silenziosa, bisognerebbe parlare, dire perché voi che sapevate non avete denunciato voi perché chi stava attorno a questa donna ha visto e non ha parlato, perché questa donna è stata così debole, è un fattore culturale, spesso è la donna stessa che non fa il necessario per salvarsi e accade quindi anche a pantelleria. Speriamo che ciò serva piano piano a instillare nel tessuto sociale la consapevolezza dei propri diritti, dei propri doveri e a pensare che l'amore che l'amore non è questo, assolutamente non è questo. Va bene, quindi era una riflessione legata a una cronaca che veramente lascia lascia male, passare male. Speriamo che serva a qualcosa. Grazie amici miei, amiche miei, voglio un mondo di bene, ci aggiorniamo per il prossimo video. ciao.